Per l'emergenza coronavirus la LEIDA, la Lega Italiana Difesa Animali e Ambiente, ha promosso una unità di crisi per aiutare gli italiani che in questi giorni sono davvero impossibilitati a gestire adeguatamente i loro animali. La LEIDA ha ricevuto fino a questo momento più di 4.000 telefonate, più di 4.000 richieste di intervento. La LEIDA ha ricevuto fino a questo momento. La LEIDA ha ricevuto fino a questo momento.